È tornato a Piacenza il piacentino Francesco Alberoni, è nato a Borgonovo, ha frequentato il Respighi. Il sociologo scrittore alla Passerini Landi presenta il suo ultimo libro, L'Universo Amoroso, scritto con Cristina Cattaneo Beretta. Sei conversazioni, distinte, guidano ad una riflessione sui cambiamenti che stanno interessando le relazioni d'amore, cambiamenti che hanno provocato, specie nei giovani, disorientamento, nuovi comportamenti. Il sociologo consiglia. Nei limiti del possibile non dare mai torto alla donna, in pubblico soprattutto, in privato magari può anche darlo, ma in pubblico no. Non farle mai fare una cattiva figura, ogni tanto ricordarsi di dare una carezza, ogni tanto ricordarsi di fare un piccolo regalo, che può essere anche soltanto un fiore oppure un profumo, e ogni tanto domandarle che cosa è il voglia di fare. Ha presentato il suo libro al Ghislieri, a Pavia, a dei giovani, non c'era certo una preoccupazione commerciale. Che cosa voleva dire? Lei ha pensato e voleva dire qualcosa ai giovani. Il tipo di disordine che c'è in questo momento fra maschi e femmine, questi problemi, sono dovuti, usavano la sua parola, il crollo del patriarcato. Cioè il nostro sistema sociale era fondato sul patriarcato. Non solo la primogenitura, ma proprio l'ordine sociale. Uno si sposava, aveva in certo modo, aveva i figli, c'erano compiti diversi per il marito, per la moglie, e un ordine sociale che riguardava questo ordine saltato. E ha lasciato un grande isordine mentale, tanto nei maschi come nelle femmine. Di qui molta gente non sa più esattamente come comportarsi. Questa è un po' l'idea guida. Il significato centrale di questo libro è il ritorno all'etica universale. Cioè in un momento in cui noi abbiamo perso i principi che ci guidavano, che erano quelli del patriarcato, in cui ognuno di noi aveva una collocazione e sapeva qual era, in questo momento noi siamo nella confusione. Ma se noi ci manteniamo aderenti a quell'etica universale che è comune a tutti i popoli, che è quella della gentilezza, del non far dal male inutilmente, del non tradire per nulla, di seguire il proprio animo, proprio di rispetto, di bontà anche, ma di una bontà che non è quella bontà per avere qualcosa. E poi ascoltare l'altro e cercare di capirlo, perché come diceva il professore, noi non ci capiamo più perché non è più automatico il comportamento di un uomo e di una donna. Allora potremmo riuscire a ritrovarci in un modo diverso, in un modo nuovo, tenendo presente che però il processo d'amore è sempre quello. Qual è il suo rapporto con Piacenza? Beh, mia sorella stava qui a Piacenza molto due anni fa e quindi sono sempre venuta a Piacenza perché c'era una parte del mio cuore.